ciao questa è la seconda parte del mio video ask se ti sei persa la prima vai subito recuperarla la puoi trovare nelle id info oppure sotto nel box informazioni non so perché a un certo punto continuato a tenere cuffie ma vabbè non fateci caso buona seconda parte a proposito di serpeverde visto che sono passati vent'anni dalla saga cinematografica a cui riconosco di avermi fatto avvicinare anche ai romanzi alla luce dell'esperienza maturata in tutte e sette storie e della tua maturazione personale se oggi dovessi indossare il cappello parlante il risultato di una interessante discussione con lui potrebbe essere venire destinato a quale casa allora per quanto io non faccio mistero della mia simpatia per il buon orres lumacorno ti faccio prima faccio prima a dirti a quale casa non gradirei essere destinato che è serpeverde perché va bene il coraggio va bene tutte le caratteristiche positive di cui possiamo parlare per ore però il discorso è che io non dimentico non dimentico per esempio come sia stato trattato come un cane Harry durante tutta la saga e dal professor Piton finchè non è morto e altri sì e anche dallo stesso Draco Malfoy fin quando praticamente non ha iniziato ad avere paura verso la fine della saga quindi diciamo che escluso serpeverde ogni casa potrebbe potrebbe essere papabile anche se anche se magari potrei dire che mi danno spesso del coraggioso nella vita reale l'unica altra casa che abbia a che fare col coraggio e che non sia serpeverde è Grifondoro e so che molti pensano che questa sia una casa banale però sinceramente io mi sono sempre rivisto non tanto per Harry che se ti ricordi non è il mio personaggio preferito ma per i gemelli Weasley i fratelli Weasley non so perché ho detto gemelli come se fossero tutti e sette gemelli per la presenza di Lione di Ron ecco ragazzi sono stato interrotto e non mi ricordo più quello che stavo dicendo probabilmente stavo blatterando qualcosa a proposito delle case e sono sicuro di aver detto più o meno che non mi ritrovo in serpeverde diciamo che la casa del cuore è Grifondoro e poi tutte le altre meno che serpeverde sono potenzialmente papabili questa risposta mi rendo conto che è impostata in modo orribile caro caro ti chiedo veramente scusa per questa prestazione brutta proprio la tua domanda che ci avrei messo un'ora a scrivere ma tant'è a parte Harry Potter c'è un'altra saga fantasy che hai seguito o magari ne hai sentito parlare e saresti curioso di provare ad assaggiare allora tutti o tutti i fan del fantasy quelli veri mica come me che sono un monosaga mi rimproverano di non avere ancora provato il signore degli anelli quindi rimando 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 anche perché ho perso proprio l'abitudine della lettura ma prima o poi dovrò recuperare il signore degli anelli partendo dai libri perché i vent'anni d'amore nei confronti di Harry Potter mi hanno insegnato che le saghe cinematografiche possono essere un tagliacucci mostruoso oltre a scene inserite alla membro di quadrupede e quant'altro vinci un miliardo di euro con cui puoi fare tutto quello che vuoi e sistemarti a vita ma hai una condizione dovrai trasferirti fuori dall'Italia e non ci potrai tornare prima di aver compiuto almeno 70 anni e anche allora solo in vacanze berevi per un massimo di 30 giorni l'anno da quale nazione ti faresti adottare per trascorrere tutta la vita? beh, tesoro l'unico deterrente per il quale io aspetto a cambiare nazione oltre ai soldi che non sono compresi perché ho appena vinto un miliardo di euro è una legge italiana che prevede la decultazione completa della pensione a 6 mesi dalla residenza all'estero credo che si debba chiamare legge di non trasferibilità quindi una volta che ho vinto un miliardo di euro ma chi se ne frega della legge della non trasferibilità? e di conseguenza chi se ne frega di non poter tornare in Italia se non ha l'età di minimo 70 anni e per massimo un mese nel senso se arrivo a 70 anni magari gli acciacchi sono di più o magari no, non possiamo saperlo un mese di vacanza in Italia direi che è più che sufficiente e non per una sola città ma anche per due o tre quindi non mi parerebbe una grossa limitazione io direi che si potrebbe fare quanto alla nazione che vorrei mi adottasse vediamo mi viene da dire l'Olanda perché l'olandese è importante per la comunicazione ma non impedisce di trovare comunque un lavoro all'inizio dici cosa te ne fai di un miliardo di euro se vinci un miliardo di euro perché il lavoro viene impegnato in Olanda perché fanno meno storie sulle sostanze terapeutiche in Olanda perché se trovassi due partner contemporaneamente sappiate che si può contrarre unione civile a più partner hai mai visto il film ho letto il libro di chiamami col tuo nome se si ti è piaciuto ti è piaciuto? no non l'ho visto non ho letto il libro sicuramente se lo vedrò preferirò leggere prima il libro per i motivi che ha spiegato al nostro amico Grizzly non l'ho visto e non ho letto il libro perché ma il sopporto di leggere o di vedere qualcosa soltanto perché la leggono e la vedono tutti domanda personale a cui io la leggo perché non me la ricordo bene e poi valuto se rispondere a cui non sei ovviamente obbligato a rispondere in che rapporto sei con i tuoi genitori in parte capire che non vivono con te o sbaglio scusa la curiosità forse un po' invadente beh no l'ASK ve l'ho aperto io quindi diciamo che sono rischi del mestiere nel senso non me la sento di di essere arrabbiato per una domanda del genere ci sono le domande che mi fanno arrabbiare o che mi dicono ma in che anno siamo finiti ma non è questa la domanda fastidiosa eh i miei rapporti i rapporti con i miei genitori sono interrotti sono interrotti perché ehm non tutti sono nati per fare genitori non tutti sono nati soprattutto per fare genitori di figli lgbtq plus tra cui io eh non si può cavare il sangue dalle rape dice un detto italiano per cui io di cambiare modo di pensare carattere modo di trattarmi e eh chiedo alla vita che mi impedisca di tornare in quelle mura eh ti dico anche una cosa sono dell'idea che se io avessi avuto una famiglia amorevole avrei voluto staccarmi lo stesso perché ehm l'Italia soprattutto nei confronti delle persone con disabilità ma non solo non entra nell'ottica che i genitori non sono eterni e quindi non dà la possibilità alle persone disabili anche con una famiglia amorevole di staccarsi facilmente dai genitori io vivo con altre persone l'ho sempre detto e sempre lo dirò perché non c'è niente di male perché con la pensione che prendo non non durerei un mese eh soprattutto considerando che devo pagare dovrei pagare dei costi di assistenza che in questo momento non sto pagando sto dando soltanto un piccolo contributo mensile eh alle persone che mi ospitano perfettamente in linea con le mie possibilità economiche mi era eh rimasta qualche domanda da parte di Filippo del canale Mr. Life & Hope a cui faccio i complimenti perché nonostante eh non ricordo che avesse partecipato a un mio ask mi ha dato degli spunti molto interessanti racconta uno scherzo che faresti ad un amico allora qui ne viene un trattato psicologico perché io non vivo ormai più le amicizie dal vivo quindi nonostante io sia una persona molto ironica che ride tanto che eh entro certi limiti che in realtà non conosco nemmeno io accetta pure gli scherzi però onestamente eh non vivendo praticamente le amicizie essendo stato isolato non solo qua ma anche quando abitavo a Milano per altri motivi se no non me ne sarei andato non saprei rispondere allo scherzo poi la cosa che ti fa arrabbiare di più il non detto perché pensaci bene no se una persona ti dice una cosa che non ti piace però te la dice hai comunque la possibilità di mettere in piedi una chiamiamola difesa però ti faccio un esempio che mi è successo recentemente se una persona per mesi e mesi continua a mandarmi buongiorno caffè a cui io rispondo perché mi fa piacere ricevere non mi risponde indietro niente e quando io faccio una richiesta più specifica mi risponde eh ma io ho problemi sul lavoro un anno che non mi pagano e bla 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 ma se voi state zitti se voi non condividete quello che provate come fanno le persone a capirvi quindi veramente un messaggio che io voglio portare grazie a questa domanda Filippo se voi se voi avete qualcosa ma avete due strade molto semplici o condividerla o semplicemente come accade anche a me perché udite udite sono un essere umano dire guarda è un periodo che non mi va di parlare niente di personale non te la prendere non ho nulla con te quando mi passa ci sentiamo e fine finito stop quindi da 1 a 10 quanto riesci a perdonare ma guarda ehm bisogna fare la distinzione tra perdonare e dimenticare secondo me perché io posso anche perdonarti un torto nel senso che non mi fa più rabbia sentire il tuo nome però decidere di non dimenticare quindi di allontanarti comunque ho imparato che il perdono non è qualcosa dal significato univoco cioè il perdono non è soltanto vieni qua abbracciami non parliamone più non è successo niente c'è anche quello però uno può comunque decidere di perdonare un'altra persona per se stesso e tenerla comunque lontano quindi da 1 a 10 ti rispondo forse un 9 perché c'è due cose e due persone che non sono riuscito a perdonare di cui non voglio parlare però a parte questi due casi che su 32 anni di vita direi che non sono così tanti e non ci possiamo lamentare di solito perdono in una delle due maniere sopradescritte il tuo migliore amico si innamora di te come reagisci allora qui bisogna lavorare di empatia perché come ti ho detto prima non ho un migliore amico vissuto o delle persone anche di sesso maschile a cui voglio bene alle quali mi dispiacerebbe se accadessero cose brutte con le quali so di potermi confidare ma il problema non si pone perché il migliore amico nel senso ampio del termine che tu vedi che sia una volta alla settimana una volta al mese una volta all'anno ma che comunque vivi non c'è non è gay non è etero la risposta è che dovrei trovarmi amici sostanzialmente bisogna vedere se questo amico mi attira almeno un po' perché c'è tutto quello che volete ragazzi ma i primi secondo me due tre anni di relazione un minimo di attrazione sessuale cioè l'amore è qualcosa che viene dopo che va distinto dall'innamoramento quando sei innamorato puoi anche farlo una volta al mese ma il tuo amore è sempre quello poi che la sessualità cambi dopo otto anni che secondo me tutte le coppie prima o poi si dovrebbero aprire qui apriamo un vaso di Pandora che lasciamo stare altrimenti invece che un asco viene un trattato di poliamoria però diciamo che mi limito a rispondere questo mi dovrei trovare e mi dovrei trovare mi dovrebbe trovare un minimo perché i primi tempi di una relazione c'è bisogno di di suonare la la tromba vediamo che youtube non si scandalizzi non so magari potrebbe essere che io non aspettassi altro boh chi può dirlo magari succederà se vincessi un milione vincessi se vincessi un milione di euro quale sarebbe il tuo primo acquisto una casa io ho piena gratitudine delle persone con cui vivo lo direi anche se ci fossero in questo momento sono da solo approfitto a fare il video ma voglio eseguo di vivere da solo se mi volessero continuare ad aiutare sarei ben felice ma ancora più felice di farlo in una casa mia bene il video per me è finito non so come si svolgeranno queste prime seconde parti probabilmente la seconda parte sarà un po' più lunga io vi ringrazio vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti e attivare la campanella per non perdere il prossimo video e noi ci vediamo alla prossima ciao